Un saluto da Chromeboy, bentornati in un bot. A questo punto la disciplina è abbastanza bassa dovuta al fatto che c'è una stanchezza che toglie un 26 al minuto e quindi direi che è il caso di cominciare a prepararsi per una vacanza. Nel prepararsi però abbiamo una posizione libera all'ammiraliato che diamo in mano al nostro ingegnere Leo Sandmuller. Ok, dopodiché andiamo a gestire l'equipaggio. Ne abbiamo due da lasciare a terra. Congedato e congedato. Perfetto. Più i nostri prigionieri. E siamo a posto. Dobbiamo reintegrare il nostro car fare e quindi possiamo chiedere le nostre vacanze nelle Alpi. Seleziona, seleziona. E cominciamo. Abbiamo completato la prima ricerca. Possiamo anche lavorare sulle toilet migliorate che ci permettono Perfondità ridotte. Sono agibili solo a profondità ridotte. Ok. Comunque penso migliori il morale. Continuiamo. Altre dieci giorni di vacanza. Ed eccoci qua. Abbiamo avuto un po' di promozioni che andiamo a gestire. Allora, coordinatore medico. C'è già il riconoscimento delle eliche. Esci. Raid back. Ingegnere specializzato. Ok. E dopodiché il nostro capo Rigger Gli diamo concentrazione. E anche a noi Andiamo a dare Proprio Concentrazione. Perfetto. Siamo a posto. Tutti ricaricati. Vado a dare A ridare L'incarico Che purtroppo Non viene tenuto Una volta che si manda E si torna dall'ammiragliato Quindi sarebbe anche utile Cercare di lasciare l'ammiragliato Sempre alle stesse persone Più tempo possibile Era una delle ragioni Per cui non volevo gestire L'ammiragliato Ok. Tutto il resto è a posto Esci. Perfetto. A questo punto Riforniamo la nave No. Prima di rifornire la nave Andiamo un momento in cambusa Trasferisci Trasferisci E ok Esci Quindi Mandiamo il nostro mercante A mercanteggiare Vedere cos'hai Cominciamo dai sidori Ne abbiamo ben due Nella versione migliorata Riforniamo di carburante Munizioni siamo a posto Per il cibo possiamo Prendere frutta E verdura E anche questi Ok E poi abbiamo bisogno di Un po' di olio E farei altre parti di ricambio 5 Quindi Munizioni Cibo Equipaggiamento Abbiamo fatto tutto Usciamo Vediamo se possiamo potenziare la nave Con la sala d'ascolto Abbiamo una sala d'ascolto migliorata Se non erro Che costa 9000 E la compriamo E siamo A posto Ora Prima di prendere la missione Faccio trascorrere il giorno Per il potenziamento E Il caricamento E ora Andiamo a vedere Le missioni Perché un po' di cose Sono cambiate In questi mesi Ci sono ordini Esatto E' cominciata l'offensiva Ovvero la campagna normagese E questo ci dà Penso 3 missioni di scorta Da fare E quindi Sono cominciate le operazioni Nel teatro atlantico Che ci danno Tra le altre ricompense Appunto Il Miglioramento del sommergibile Vediamo che missioni ci danno Perco di un agente in Irlanda Operazioni nel teatro atlantico E quindi Io prenderei proprio Questa Che vogliono arrivare Al sommergibile Successivo In meno tempo possibile Ecco che arriva L'agente Sigrid Mayer Saluta Tovon Wolf In modo Informale Spiega Deve ricevuto L'ordine Di unirsi A ricoverci A bordo L'U-150 Durante questa missione Benvenuto Perfetto Questo dovrebbe essere L'agente E noi siamo a posto E dobbiamo arrivare Qua Missione Che potrebbe sembrare Relativamente semplice Speriamo sia così Avanti un terzo E cominciamo Ok abbiamo avvistato Delle imbarcazioni Questo potrebbe essere Male Vediamo comunicazione C'è qualcuno in torretta Che sta lavorando È piena notte Quindi vogliamo Le luci rosse Non dovrebbero Vederci Anche In questo caso Ma noi andiamo Un momento In In immersione Giusto per Capire dove sono Queste navi E sono assolutamente Sopra di noi Quindi è il caso Di andare Ancora un po' Più in basso Dare a una Quarantina di metri E passare In luce blu E navigazione Silenziosa Avanti sempre Un terzo Non hanno acceso Gli ASIC Non ci hanno neanche Visto passare Probabilmente Il nostro equipaggio Già comincia A stressarsi Le sentiamo Ancora girare Quattorno Ma Ecco che partono Gli ASIC Ci hanno Più o meno Sentito Ok Il caso di variare La nostra rotta Quindi E andiamo In questa direzione Continuiamo La La nostra Fuga Avanti un terzo Probabilmente Stanno già Lanciando Razzi di segnalazione Dai rumori Che senti in cuffia E continuiamo così Purtroppo Anche in piena notte Il rischio di essere Immediatamente avvistati Non è basso Allora Qui Siamo tra i 100 e i 200 metri Quindi possiamo Scendere anche 75 Vediamo se Questa rotta Sì Ma non Riemergerò Prima di qua Alla bene Ok L'allarme Annullato Noi continuiamo A andare ancora Un po' In Immersione Vediamo Come sta andando Intanto io vado A dare un'occhiata Anche qua E mi avevano assicurato Un fondale Più alto Dovrei imparare A usare Lo scandaglio Ma Queste mappe Ci dicono Vaccate Quindi abbiamo Fatto dei piccoli danni Alla lancia Siluri E portiamoci A quota periscopica E vediamo Se siamo fuori Qui appunto Eh qua diceva 50 30 Cioè c'è praticamente Una secca qua Si potrebbe avere Una mappa Con le profondità Al posto Di questa mappa Bianca Ok Dunque è giorno Noi continuiamo La navigazione Sottomarina Per un po' Idealmente Per tutto il giorno Ma staremo a vedere Dalla Stato dell'aria Ostilità Verso la Norvegia Da ora in poi Tutte le navi da guerra Norvegesi Sono da considerarsi Ostili E dovranno Essere combattute Con tutte le armi A propria disposizione Si prevedono Tentativi Delle forze navali Britanniche Di penetrare Nei fiordi Norvegesi Questi tentativi Devono venire Ventati Ad ogni costo Vedeu Siamo in guerra Con la Norvegia Eccoci qua Allora Sistema di ventilazione Vediamo se fa qualcosa E continuiamo Ok Ora abbiamo Quasi Finito l'elettricità È ora di emergere E continuiamo Completato la ricerca Quindi ora Diamoci un momento Per fare un salto All'ammiragliato E lavoriamo Su questa Torretta Accetta O non può Esci Ah non abbiamo Penso abbastanza Punti di reputazione Ok Continuiamo Ok Penso che siamo Ancora abbastanza Distanti Che ore sono Sono le 5 di mattina Purtroppo Purtroppo Non siamo riusciti A arrivare in piena notte Mare agitato Non so Quanto siamo visibili Cioè lo so È scritto qui Ma Visibilità 24 Ok Purtroppo sarà Pratico Ok Immersione Non dovrebbe averci visto E immaginavo ci fosse Un po' di difesa Qua Allora passiamo in Luci blu Interrompi ordini diretti E navigazione silenziosa Ok Lei te becca Ha trovato alcune bottiglie Di champagne Sistemate con attenzione Va bene Le bottiglie di champagne Saltano sempre fuori Nei momenti più strani Ok Due navi sono passate Senza problemi Qui il fondale È relativamente basso 10 metri Quindi ci sarà poco da fare Per Nel caso Dovessimo Posarci sul fondo E attendere la notte Cosa che potrebbe essere Utile fare Ok Taglio corto così E andiamo In acque poco profonde Mi chiedo A quante Miglia devo A quanti chilometri posso sbarcare È un temporale Che dovrebbe coprirci Abbastanza Ok Ok Siamo in buona posizione Dekawash Guardate quanto è vicino Il fondo Vediamo le due missioni E sbarchiamo E sbarchiamo la spia Ecco la spia che parte col canottino E adesso possiamo Levarci di mezzo Potrei avventurarmi qua in mezzo Per Evitare Il più possibile Le navi nemiche Ma Per il momento Mi mantengo solo Sotto costa Sono solo le 10 Quindi ci aspetterà Un'altra giornata Sott'acqua Morale non è altissimo Devo capire Il cucina trasandata Cosa vuol dire Probabilmente vuol dire Che non c'è un cuoco Ecco Navi da guerra Noi siamo in navigazione silenziosa Siamo sotto costa Sembra passarci Spero senza vederci Ok Mandare questi messaggi È naturalmente rischioso Ma Fanno fare qualche punto Vediamo le profondità Sono 20-50 metri Continua a esserci temporale Quindi non Dovrebbe essere Ok Inviamo il rapporto Perfetto Ok Nuovo obiettivo Forse lo dobbiamo già recuperare Capitano Abbiamo ricevuto rapporti Che indicano Che il nemico È a conoscenza Della vostra missione È altamente probabile Che il nemico Tenterà di intercettare Il vostro U-Bot Alla luce di queste nuove informazioni Vi ordiniamo Di tornare immediatamente Al vostro porto D'origine Mentre tornate indietro Vi suggeriamo Di esercitare Estrema prudenza Di rimanere vigili Per qualunque segno Di attività nemica Non ritorneremo i vostri progressi E saremo pronti A fornirmi Ogni supporto Che ritenete Recessario Buona fortuna Eh buona fortuna Adesso Quasi quasi Questa strada Potrebbe funzionare Solo che vedo Che qui c'è un 5-10 metri Potrebbe essere Veramente Veramente Basso Noi proviamo Ad andare a un 12 metri Sperando Che il mare ci sia Il fondale Siano sufficientemente Fondi E continuiamo Giusto per togliere Il periscopio dall'acqua E di non essere proprio Al pelo dell'acqua La qualità dell'aria Si sta nuovamente Deteriorando Dobbiamo partire Il sistema di ventilazione Penso che siamo Comunque abbastanza Distanti Finché abbiamo batteria Comunque Andiamo avanti In acqua Cercando di tirare La sera Sono già le 16 Ok Siamo vicini Ad altre navi Ma siamo anche Vicini alla sera Ma siamo anche Molto vicini Alla costa Irlandese Ok Sembra Sembra che siamo Riusciti a uscire Dalla zona Ora Naturalmente Il pericolo Sono gli aerei Perché siamo In pieno giorno Ma le cose vanno Un po' meglio Nuove comunicazioni Allora andiamo a vedere La cambusa C'è tutto Possiamo mettere un altro po' di questi Un altro po' di questi Perfetto Stiamo un po' finendo il cibo Allora Per quel problema Della cucina Trascurata Proviamo a dare Negli incarichi Dell'equipaggio Dei marinai Allora Io avevo dato Un 7 3 3 E Diamo Un 3 3 Ah no Questa è L'osservazione Va bene 7 7 7 7 3 3 E La cucina È un Ok Deve essere però Un Un altro Un'altra ora Quindi qui è 4 10 Ok Ed esci Perfetto Così dovremmo avere qualcuno In cucina Più spesso Vero E intanto noi continuiamo la navigazione verso il porto E proprio mentre rientravo mi sono accorto del problema che avevo di cucina trascurata eccetera Mi sono dimenticato di imbarcare 3 nuovi marinai Ok Roba cosa che faremo subito adesso prima della prossima missione Decorazione bot di guerra con diamanti per Eh Fire E noi Siamo A metà strada per la Eh Croce del cavaliere 6.000 più 100 Avanti Abbiamo fatto tutti i punti 75 punti per l'equipaggio A questo punto abbiamo Nuovamente due punti di reputazione Possiamo Come però prima di tutto andare a reclutare qualcuno Sono tutti da 4.50 Piene per reati Non ci piace Montagna e Wolfan Ho imparato a lavorare sodo Recluta Donnaiole e Donista Un combattente sempre in prima linea Un soldato che si logica agli stivali tutti i giorni Presciutto nel piccolo villaggio di Dresda Come dentista Non ci piace Figlio di un farmacista Un esercito per denaro Non ci piace Non è socievole Ma è comunque arrulato Un tipo strammo Non ci piace Un combattente Sempre in prima linea Anche lui ci piace Esci Ok Sceglierò l'equipaggio per la prossima missione 14.14 Adesso ci siamo Quelle a bordo sono a posto Quelle a terra sono a posto 1,2,3,4,5 Andiamo subito a rifornirci Di cibo Abbiamo questi pesci Compra Altra frutta Compra Altro formaggio Compra Esci E arrivederci Ottimo Tambusa Ecco Koenig A cui dobbiamo dare La buona notizia C'è un messaggio Regolante I tuoi genitori Tu parevole Il guarito Dalla malattia Ok Gambusa Questo cibo È tutto in movimento Quindi non possiamo Caricarlo immediatamente Passiamo due giorni 1 E 2 Perfetto A questo punto Qui stiamo migliorando Qui stiamo migliorando Possiamo potenziare la nave Versione Motore elettrico Non c'è nient'altro D'ascolto Non c'è nient'altro E siamo a posto Punti disponibili per la specializzazione dell'equipaggio Ok Andiamo ad applicarle Arrivederci Dov'è? Qua Abbiamo già dato tutti i punti per Questo Quindi annulla Cominciamo con immersione Ah non posso specializzare Due membri dell'equipaggio Con lo Cioè dare due Dare due specializzazioni Membri dell'equipaggio Peccato Ok E quindi è ora di andare A prendere proprio la nostra prossima missione Ok Champagna Norvegese Scosa Installazione di una stazione meteorologica Operazione del teatro atlantico Due di cinque E quindi andiamo a fare questa stazione meteorologica Seleziona Queste missioni di solito sono ancora abbastanza semplici Se non altro ci permettono Di andare A Provare a livellare queste sommergibili Naturalmente avremo sempre a che fare con Con la scorta Allora vogliono Che io libere dello spazio In magazzino Per La stazione meteorologica Che sarà tra l'equipaggiamento No Poh Cosa togliamo Togliamo questi quattro pezzi da riparazione Vendiamola Ecco la stazione meteorologica Esci E arrivederci Siamo pronti E cominciamo ad andare Dobbiamo andare fino a lì Cominciamo a salire fino a qui E poi fino a qui Fatemi controllare che qui sia tutto a posto L'uscita Sì Avanti Un terzo Il sommergibili Dove ho detto carburante Nulla È vero È vero È vero È vero Anche se in realtà Probabilmente avrai abbastanza carburante Voglio vedere che cosa hai Carburante Rifornisci Esci Arrivederci Avanti Un terzo E andiamo C'è stato un altro pestaggio Corte marziale Abbiamo già abbastanza problemi Deve essere anche morto Ah no È in attesa di corte marziale Quindi penso Non venga conteggiato Non lo so Ok Siamo vicini a questa isoletta Sono le dieci Non abbiamo per ora Incontrato Difese Scondale basso Fermiamoci Possiamo già inviare il gruppo Sì Invia una squadra sulla costa Selezioniamo il personaggio Mandiamo Un meccanico Due E naturalmente immagino No Niente Continua La squadra è arrivata Sulla costa Senza problemi Nessun segno di vita Nel torno Devono inviare Una squadra di esplorazione A ricerca di un punto adatto Esplora Ok La squadra di esplorazione Ha trovato un posto adatto Per Dispiegare la stazione meteorologica E ha trasportato Tutti i componenti Possiamo procedere Ok Temo Ci sia Ci siano problemi Gruppo in avvicinamento Qui ci sono No Siamo a 15 metri, vediamo se il gruppo passa senza notarci, sembrerebbe, magari devo dare anche silenzioso, ecco. Siamo ancora un po' sul fondo, la stazione metrologica è funzionante, dobbiamo solo eseguire un test, se avranno successo la missione sarà completa, possiamo utilizzare la radio di bordo per verificare se la stazione trasmette, quindi dobbiamo tornare in superficie, d'accawash, spiegamento di stazione metrologica, stazione metrologica, decodificato, temperatura meno 4, velocità di movimento 10 nodi, tutto questo per avere due dati, fantastico, potete tornare a bordo, l'ubot deve trovarsi nell'area specifica, quindi proviamo a emergere, Vediamo se forse ci siamo leggermente allontanati, avanti lento quindi Facciamo 3 metri, Ora niente, 3 chilometri scusate Ok, tornate presto a emergibile, Ok, i nostri sono tornati al sommergibile e quindi noi possiamo tornare alla base, un'altra missione abbastanza facile, tra queste in Atlantic, con la prossima, potremo finalmente arrivare al sommergibile, di classe 7, che dovrebbe essere molto molto più serio Ti giunge che Jacob Wagner stia sporgendo pettegolezze, trovano gli ufficiali, car fair, le sue affermazioni negative non sembrano avere fondamento e stanno abbattendo il male degli uomini, che tipo di azioni interprenderai? Ancora corte marziale, va bene, abbiamo un sacco di corte marziale per questo giro, ed eccoci nuovamente in porto, la missione ha avuto un po' di problemi più che altro dal punto di vista dell'equipaggio, ma per il resto è andato tutto bene, La croce di ferro di seconda classe per la croce del cavaliere, ci metteremo una vita, per azione in Atlantic, più 100, più 6000, ottimo, tutto a posto, avanti E quindi per questo episodio ci fermiamo qui, nel prossimo episodio vedremo cosa ci riserverà la terza missione in Atlantic, e se questo ci permetterà di sbloccare finalmente un sommergibile serio con cui poter combattere la battaglia dell'Atlantico lasciando indietro questa sorta di piccola canoa Per ora è tutto, e alla prossima!